Ai! Sono quasi caduto sul marciapiede quando qualcuno mi è venuto addosso. Oh, scusa, non ti avevo visto. Alto, muscoloso, sorriso affascinante. Mi chiedo come ho fatto a non notarti, in realtà. Magari ci rivedremo. Cercherò di non prenderti contro. Keller, giusto? Sono Thomas. Mi occuperò dei dettagli amministrativi per la tua posizione. Sono responsabili dell'IT e l'EvDev Technologies. Aspetta, invece ti offro un caffè di benvenuto, se vuoi. Oh, questo posto è fantastico. Effettivamente, tranne un po' quella statua che sembra fatta di latte sporco di biscotti in pan di stelle, mi sembra, è molto bella come... Beh, una cuffia in testa. No, penso sia tipo un pompone oppure donna con uno chignon. Sì, la maggior parte della gente lo dice. Ma ti mostrerò qualcos'altro di veramente interessante. È nella mensa. Ho seguito il nuovo Thomas nell'area successiva. Cosa ti piacerebbe? Fammi vedere cosa c'è. Non aspettarti nulla di esotico o innovativo? No, lo so. È solo per vedere cosa mi tenta. Cosa? Non avete la macchinetta del caffè che fa i frullati con il dugongo? No, il dugongo è un animale. Con il frutto della passione, l'avocado e non lo so. Un po' di luparia, un po' di dittamo. Ho dato una rapida occhiata a ciò che la macchinetta aveva da offrire. Una cioccolata calda, se è la migliore. Lo è. Ottima scelta. Non puoi davvero sbagliare scegliendo il cioccolato. Su questo Keller hai ragione. Per una volta hai ragione. Thomas Annui, mentre tirava fuori il telefono dalla tasca. Comunque aspetta, ma là in fondo c'è del cibo. Infatti so. Sono hamburger giganti. Oh, sembrano i barattoloni di proteine. Sotto sono mega pagnotte. Sì, questo è insalata, così. Un bel croissant. L'ho toccato alcune volte e la macchina è iniziata a funzionare. R2D2. Mi guardò con orgoglio, mentre afferrava la tazza e me la porgeva. E che carino, che felice dei suoi achievement. Esatto. Eccola, una cioccolata calda e deliziosa e gratuita. Grazie mille. È gratuito soprattutto. Sì. Ho allungato la mano per prenderla. È rossito. Che bugiolo. Quando ho preso la tazza, le mie dita si sono posate contro le sue. Oh mio Dio. Abbiamo scoperto che anche lui ha le dita. È umano. Queste scene mi suonano sempre buffissime. Per il fatto che, se non è una situazione particolare, il fatto che effettivamente si sfiorano le mani. È umano. Sì, è umano. È l'unica cosa che allunghiamo al di fuori di noi. Per toccare le cose. Esatto. Noi italiani mi sbracciamo l'anima. Quindi, mentre parli con qualcuno, rischia di tirare una sberla a quello che passa di fianco. Però sì, come dici tu, sono cose normali. Capita di sfiorarsi. Poi, ovvio, lo fai il meno possibile, magari. Diciamo che, sì, mi sembra esagerato sottolinearli così tanto. Però, come Thomas, potrebbe essere, magari, fatica a volte col contatto fisico con gli estranei. Quindi capisco che, magari, sai, il contatto con le mani, poi, sai, ti stavano guardato dritto negli occhi e ero stito per forza di cose. Può essere che alcuni faccia di più o di meno, però proprio nel film, nel film, le sottolineano come se... Sì, no. ...fosse tipo l'innamorato degli innamorati già e lo sfiori la mano e scocca la magia. No, a me sembra... Ma se io ti do la scossa. Sì, no, in questo caso a me sembra più il fatto che lui è in imbarazzo perché non è abituato. Però, secondo me, evidenzia il carattere di Thomas, che è un po', magari, infacciato nel... Sì, sì, quello sì. Diciamo che, per altri tipi di personaggi, mi vorrebbe dire, più avanti può essere che, effettivamente, i due personaggi non vogliono ammettere, ma c'è qualcosa, quindi, quando si sfiora la mano, potrebbe... Esatto, esatto, ci sta. Lo qui, invece, Cassola l'ho appena incontrato. Anzi, questo mi ha lasciato fuori mezz'ora da aspettare. Tantà! Che, tipo, qui dall'illustrazione, questa l'ha afferrato le mani, come dire, ma vuoi passare la tua interesistenza con me? Cioè, Thomas, te credo che ti imbarazzi, ma ti criggi anche, porta. Esatto, no, cioè, capisco, anche Thomas, qua, secondo me, la faccia di Thomas ci sta. Nel senso che, tipo, ok, mi sta toccando, non ero pronto per questa cosa. Sì, soprattutto in quel modo. Sì, infatti. Non lo so, comunque, l'illustrazione in sé è carina. L'illustrazione mi piace. Lui mi piace tantissimo, lei ha la testa strana. Ma a me non dispiace, forse sia sto ciuffo un po' strano. Però a me piace, a me piace. Sì, 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 no, è bello, è bello. I suoi occhi incontrarono i miei, prima di distogliere immediatamente lo sguardo. Sì, tipo, ok, lei mi molli la mano? Cioè, è mia, non è che... è un po' presto per chiedermi in mano. Sì, esatto. Ragazzi, come potete vedere, un'altra feature, diciamo, del gioco è che ci sono queste scene speciali che vanno pagate. Però vanno pagate, però non usano i PA. Quindi, da un lato, sono anche, forse, convenienti, non si sa. E a noi ci piacerebbe mostrarvele, ma la nuova video policy, questa le considera scene bonus. E quindi non possiamo. No, tranquilla, va tutto bene. Ho sorriso a Thomas, che mi ha sorriso di rimando. Grazie. Quindi hai un'app che controlla la macchina del caffè? Ecco, questo è interessante, parliamo di cose pratiche. Perché altro sarebbe bello se tu potessi mandare l'ordine del caffè, mentre c'è la scrittoria quando arrivi lì e il caffè è pronto. Esatto. L'ho sviluppata in modo da non dover pagare le bevande. Complimentoni, mi devo dire. L'app inganna la macchina facendogli credere che ho pagato e mi serve quello che chiedo. È intelligente e nessuno ha problemi con questo. No, perché, senza offesa, cioè è rubare. È un po' brutto, cioè capisco se ogni tanto... Sì. Uno, non so, piglia la capsula del collega, non lo so, che anche lì però c'è un limite. Beh, questo qua ha proprio creato un'app apposta per non pagare mai. Esatto. No, in realtà dopo aver sviluppato l'app, Devon mi ha spiegato che era già tutto gratis. Beh, se era già tutto gratis, perché devi far credere alla macchina che stai pagando? Forse devi mettere una chiavetta. Ah sì, quindi lui semplicemente ha creato una app che simula la macchina, che tu gli hai inserito una chiavetta che in realtà sblocca solo. Se vuoi mandare una mela alla bimù per chiederti l'idea. C'è lo spazio in cui metti le monete, ma è una struttura residua. Non avevo mai pensato di provare a ordinare senza pagare. Quindi tu hai pagato, cioè hai messo delle monete dentro, hai speso soldi e non te li hai sputtati fuori. Ma secondo me è che mi sembra una di quelle persone che pur di non bere la cioccolata qua dentro, me la porto a casa. Ah, anche. Pur di non spendere due euro nella macchinetta. Onesto. Alla fine ci ho messo dentro un bel po' di spiccioli. Ah no, quindi c'è gli ha spesi, poverino. C'è lo più stupido del previsto. Il suo personaggio ogni tanto si bricciola su lui stesso. Beh, forse questo sembra più un rimasuglio della sua giovanità. Sì, sì, infatti. Dovrò provare a scaricare un corso di formazione sullo scasso. Chiedi che ti ridiano i soldi. A meno che tu non ne sappia già qualcosa. Ah, perché abbiamo la faccia delle... Scassinatrici? Sì. Sì. Non posso dire di sì, no. No, altrimenti puoi sempre sfondare la porta. Sì, ma puoi depagarla perché è rotta. Cioè, Kelly, è un po' di coerenza. Che ne lo so che con un piede di porco posso aprire molte cose, ma non vuol dire che devo farlo. Ah, rumora. Voglio dire, se a nessuno importa... Secondo me gli importa, Kelly. Vediamo, Kelly. Domani ti pianto un piede di porco nella portiera. Vediamo se ti importa. Non è la soluzione più elegante e mi darebbe fastidio danneggiarlo. Ah, ho dimenticato di mostrarti la scrivania. Vieni. Senza tenere la mia risposta se andò verso l'open space. Certo, sarò toccazzo di te che lo fissi a vuoto nel nulla cosmico. O parli di aprire le porte col piede di porco. Esatto. L'ho seguito, curioso di vedere la mia scrivania. Eccola qui, proprio di fronte alla mia. Poverino, questo ogni volta che alza gli occhi vede gli occhi di lei. Madonna mia. Un incubo. Puoi lasciare le tue cose qui e fare il tuo piccolo giro. Oh, Amanda è già qui. Ti ho parlato di lei. Thomas indica una giovane donna bionda seduta alla scrivania. Puoi presentarti se vuoi. Sai vero che sarebbe anche educato che tu ci presentassi. Esatto. Ma noi non siamo film di orgoglio e pregiudizio dove ti devono prima presentare le persone di alto rango. È vero. Con un sorriso educato si sedette alla scrivania, concentrandosi sullo schermo. Mi sono avvicinata ad Amanda, con passi misurati. Vedendomi si alzò e mi tese la mano, sorridendo educatamente. Devi essere la nuova ragazza. Sono Amanda della Vienne. Le ho stretto la mano, sorridendo. Incantata. Hai ragione, sono la nuova ragazza. Che è Leir. Io sono Che è Leir. Un nome e una certezza, preparati. Mi occupo della contabilità e di tutto ciò che ha a che fare con la gestione a livello globale. Mi occupo anche di eventi per clienti che riguardano l'arte o il lusso. Grande. Ne so qualcosa. Forse possiamo lavorare insieme. Amanda mi guardo dall'alto in basso e poi dal basso in alto. Va bene. Ho capito. Guarda, Amanda ti è andata di culo perché noi la volevamo far uscire in pigiama. Esatto. Mi guarda la faccia di cane. Mi stai squadrando o ti squadro anche io. Sì, forse potrei addestrarti. Sì, ho la frusta. Ce la vedo. In realtà, comunque, questo lo deciderà il capo. Beh, spero che il mio contratto fosse in qualche modo esplicato il mio lavoro. Esatto. Ehi, qualcuno sta parlando di me? Ciao, Amanda. Oh, ma i capelli lunghissimi, non avevo notato. Yes. Oddio. Potresti diventare il mio preferito perché mi piacciono tanto quei capelli. Mi sono bloccata immediatamente. Ma il tizio che faceva jogging. Si sporse per abbracciare Amanda. Comunque è legale, Roy, che vai giro per l'ufficio così. Sì, infatti. Poi che mi manda me la immagino e mi fa No, sei sudato, stammi lontano. Stavo parlando di Devon, come puoi immaginare. Questa è Kelly, la sostituta di Danica. Ecco, posso dire una cosa, però, dire la sostituta di Danica è veramente brutta. Io avrei detto la nuova ragazza. Sì, esatto. Si voltò verso me, mi riconobbe e sorrise. Guarda un po', parliamo di coincidenze. Hai visto? Non ti ho preso contro questa volta. Grazie, è molto gentile da parte tua. Sono Roy. Se Devon è il mio capitano, io sono il suo primo ufficiale. Non è ufficiale. Fa parte della squadra come tutti gli altri. Non esattamente come tutti gli altri, no. Comunque, cosa vuol dire? A me mi sembra tutte dei doppi scienzi. Allora, prima Thomas che fa, andiamo in mensa, c'è qualcosa di meglio. E in realtà ci doveva essere, lui che è mezzo nudo. E qua lui fa, eh, non sono proprio come tutti gli altri per Devon. Ah, quindi c'è la tresca con Devon, fammi capire. Quindi è bello che Devon abbia trovato un sostituto per Danica. Sai cosa è strano? Che abbia una protagonista che sta parlando il giusto. Speriamo che non ci sfererai lo stesso colpo basso che ha fatto lei. A quanto pare il colpo basso in questione deve essere stato un colpo molto basso. Sembra davvero arrabbiato. Allora, cioè io, anche qui, cioè, scusate, cosa ho fatto io di male? Cioè, sono un'altra persona, non ho fatto nulla. Attivamente, razionalmente, è una cosa brutta da dire. Perché, come dici tu, sono persone diverse. E tutto, ci sono modi e modi per dire che la tizia che c'era prima se n'è andata da stronza. Sì, questo non è un modo. Cioè, metterci a confronto con lei non è il modo giusto. Lo spero anch'io. Di che colpo basso stiamo parlando? Roy strinse la mascella. Allora, se ti rimballo un argomento, arrivi fino in fondo. Non è che mi lasci a metà. Ci ha lasciato da un giorno all'alto per andare a lavorare per Gold Dreams, il nostro concorrente. Secondo me è stato un errore, ma lei non mi ha consultato. Sai cosa? Non ne parliamo più. Si è scavato una forza da solo, mio caro. Comodo da parte tua, questo. Già, inoltre dovremmo anche lavorare. E non state lavorando perché state accogliendo la nuova arrivata. In ogni caso è stato un piacere conoscerti, Kelleyr. A noi, pensieroso. Non so se hai già incontrato Devon. No, non ancora. Dovrei andare a trovarlo. Sì, puoi presentarti. Lo apprezzerà. Ok, lo farò, grazie. Se ne andò per andare a sedersi alla scrivania, con una ruga preoccupata ancora sulla fronte. Bello come si è rovinato la giornata da solo. Sì, infatti, c'è proprio. Vado anche io. Se hai qualche domanda... Sì, tipo, cosa devo fare? C'è uno che mi affianchi. Cosa devo fare? Sono sicura che tutti qui saranno entusiasti di aiutarti. Non esitare a chiedere. Cioè, tutti molto entusiasti. Infatti. Oh, è bella, io vado, eh. Tu, mamma, fatti un giro per i cazzi tuoi. Prima o poi qualcuno ti darà cosa fare. Se nessuno ti dice niente, boh, tanto vieni pagata lo stesso. Si voltò e se ne andò velocemente. Ok, quindi immagino di aver semplicemente... Oh! Roy mi salutò dalla sua scrivania. Mi avvicinai a lui in curiosità. Vuole dirmi più su tutta la storia di Cold Dreams? Sembra il nome di una scuola per le brazze. Sì, infatti. Mi dispiace. In tutto questo mi sono completamente dimenticato di... Devon mi ha chiesto di vedere che tipo di sedia da scrivania ti piacerebbe. Ho dato un'occhiata alla mia scrivania. In effetti non c'era una sedia. Devo prenderne una da qualche parte? Per favore, dimmi che questo non è una sorta rituale di iniziazione in cui dovrò vagare per mille anni. A cercare una... Graffetta! Ma forse non ho imparato veramente dai loro errori. Che cosa? No, no, per niente. Non è proprio il nostro tipo di iniziazione. Però vuol dire che c'è un'iniziazione. Quindi l'idea è che per i tuoi primi giorni ti presteremo una sedia da scrivania. Così potrai sederti. Ma va là! Non l'avrei mai detto! Avremo in piedi. Ma questo solo mentre aspetti la consegna della tua sedia personalizzata. Tutti abbiamo la nostra. Pensiamo tutti che sia più bello così. Effettivamente Roe aveva una specie di sedia delfino che non passava inosservata. Ma le altre? Mi sono guardata intorno nell'open space. Tutte le sedie erano diverse. Non me ne ero accorta prima. Hai lo spirito di osservazione di una cacca. Una cacca la osserva meglio di te. Anche perché in un ufficio solo le sedie sono diverse. Te ne accorgi velocemente. Sì, anche perché si vede proprio che è uno stile a cazzo più totale. Vieni a vedere. Potrai scegliere quella che desideri. Ho girato attorno alla sua scrivania per vedere il suo schermo. Che poi in realtà è di fronte a noi. Sì, infatti. Qui. Generalmente andiamo su questo sito. È un nostro amico che l'ha creato, quindi si occupa di tutte le nostre esigenze di arredamento. E gestiamo tutte le sue esigenze di eventi. È un bello scambio di servizi. Guarda, puoi scegliere qualcosa dal loro catalogo. C'è qualcosa per ogni stile. In realtà consiglierai il loro sito anche per le tue esigenze di arredamento della casa. Si è spostato per permettermi di dare un'occhiata. Vediamo che sedie mi proponete. Mi piace questa. Anche quella non è male. In uno stile diverso. Oh, penso di aver tratto quella che voglio. Cosa ne pensi di questa forma di dinosauro? Non è troppo carina? Sì, in realtà il mio è della stessa collezione. Non l'avrai mai detto. Hanno tanti animali diversi. Animali da fattoria, pesci, uccelli, eccetera. Oh, ti prego, sarebbe stato bellissimo se le avessimo prendo un caprone. Un caprone. Una capra. Una capra ci sarebbe stata. Era molto che lei. Facciamo rituale. O una pecora. Però quando muovi le ruote fa... Ci uccidono. Però ogni tanto ci sta tutto silenzio in te. Mi sicuramente sdrammatizzi molto l'atmosfera. Ah, quello sì. Ho abbassato lo sguardo sulla sua sedia. Se è la stessa serie posso provarla? Per essere sicura che si è comoda. Certo. Con un movimento agile si alzò dalla sedia. Mi sedetti e mi dimenai sulla sedia per testarne la qualità. Era piuttosto comoda. Dimenai. Madonna. Lui con il movimento agile si alzò dalla sedia. È una sedia. Cioè, ok. Noi quando ci alziamo screcchiano le ginocchia. Quindi posso capire il movimento agile, però. Ti stai chiedendo se cambierai idea per una balena o uno squalo? No, no. Un dinosauro va benissimo. Perfetto. Fuora l'ordine. Lo riceverai in pochi giorni. Non vedo l'ora. Grazie mille, Roy. Nessun problema. Va bene. Torno al lavoro. Arrivederci. Se neanche tu ci dai qualcosa a fare. Mi allontanai dalla scrivania di Roy, lasciandolo alle sue attività. E per tornare a le mie che non ho. Ok. Dovrei andare a trovare Devon. Come Roy mi ha consigliato di fare. La porta dell'ufficio di Devon era aperta. Però anche lui, scusate, arriva la nuova dipendente e non ti alzi neanche dall'ufficio. Non lo so. Sono confusa sulle pratiche sociali all'interno dell'ufficio. Ficcato in tutto questo. Noi siamo stati i primi ad arrivare con Thomas. Sì, non abbiamo visto nessun altro entrare. Esatto. Ah beh, noi entravamo in caffetteria. Ah, ok. Appena fui fuori, mi vide e mi feci scendere di entrare. Si è comodi, va tu te bene? Si alzò per stringermi la mano. Immagino che tu debba essere a curler. Incantato. Gli ho stretto la mano sorridendo. La lasci subito però questa volta, vero? Esatto. È il capo. Eh, infatti. È molto diverso da quello che immaginavo quando l'ho sentito al telefono. Sembra molto più aperto, molto più caloroso. Oddio, iniziamo già. La vedi è sbottonato. Abbiamo capito che hanno un difetto con i bottoni, eh, sta gente. Lo stesso. Roy mi ha detto di venire a presentarmi. Ah, hai incontrato Roy. Hai visto anche gli altri? Sì, ho visto Thomas che mi ha accolto e Amanda. Perfetto. Se per te va bene, ti presenterò in modo più formale durante la riunione delle dieci. Per ora, cosa pensi dei tuoi nuovi colleghi? Nitta, ci ho parlato tre volte. Non sembrano degli spostati. Esatto. Non sapevo cosa dire. Ero un po' intimidita da Devon. Ma hai detto prima che sembrava più simpatico e caloroso. Pensa te se non lo era. In ogni caso, sono stati tutti molto gentili con me. Non è esattamente la verità, ma... Sulli. Ascoma intende che Thomas arriva a te in ritardo. Oppure che Amanda la squadrata, ma... Mi ha fatto un grande sorrisore assicurante. Alcuni di loro hanno una personalità speciale. Quindi so già di cosa intendiamo. Ma penso che sia una buona cosa. Arricchisce l'azienda avere profili così diversi. E' per questo che ha chiesto noi. Abbiamo un profilo diverso da tutti gli altri. Siamo delle spostate. But dry, dry pressed to equilibrio. Proprio in quel momento squillò il telefono. Devon rispose. L'espressione sul suo viso cambiò immediatamente. No, io sento il telefono. Ciao Devon. Per dai Jason. La sua espressione aperta e calda divenne improvvisamente severa e concentrata. Sì, sono Devon. No, no, no. Ascoltami. Non è questo quello che abbiamo detto. Non è un mio problema. Abbiamo firmato un contratto. Mi ha fatto cenno di tornare più tardi. Con un sorriso educato ho lasciato il suo ufficio. Sono rimasta un po' sorpresa dal primo scambio di battute con Devon. A me sembra una persona normale. E' passato da fantastico a piuttosto spaventoso in un secondo. No, è diventato professionale. Cioè nel senso. Esatto. Se uno lo chiama e dice Ah, guarda, sai che forse ti rubiamo i soldi. No. Ti cazzi. Va bene. Ho ancora un po' di tempo da ammazzare prima dell'incontro. Vediamo a uccidere un po' il tempo. Abbiamo tutti gli orologi in ufficio. Un'accettata a tutti. Ciao. 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 Grazie a tutti.